Ecco fatto, che vengono gli orchi. Questo è Shrek. È lì dentro, credo. Va bene. Prendiamolo. Ma aspetta, sai cosa può farti quell'essere? Sì, ti tritta le ossa e ci fai il pane. Sì, beh, in verità, quello lo fa un gigante. Vedete, gli orchi fanno cose peggiori. Sì, fanno un abito con la vostra pelle appena sfogliata. Vi affettano il fegato, strizzano la gelatina dai vostri occhi. In effetti è squisita, Sweetheart. Indietro, indietro, bestia, indietro. Ti avverto. Capisco. Questo è alla larga. Faccio io. A questo punto dovreste scappare. Adesso io stacco. Fino a due minuti. Ciao.